Ancora segnali di miglioramento in Sicilia in ordine alla curva dei contagi e i ricoveri. Ieri sono stati 877 i nuovi casi registrati su 19.357 tamponi processati. Il tasso di positività è al 4,5%. Sebbene l'isola sia sempre la prima regione per numero di nuovi positivi, ieri si è registrato un netto calo dei ricoveri. I pazienti nei reparti ordinari sono 823, 27 unità in meno rispetto al giorno precedente, mentre le terapie intensive restano stabili, 116 ricoverati, sebbene ieri si siano registrati 6 nuovi ingressi. I decessi per Covid sono stati 29, molti dei quali riferiti ai giorni precedenti. Gli attuali positivi al Covid in Sicilia sono 28.016, 531 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 27.077 in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.379. Insomma, dopo settimane difficilissime, la situazione in Sicilia pare che stia lentamente iniziando a migliorare. Nonostante il primato dei contagi sia sempre indiscusso, l'isola vede migliorare alcuni parametri e può allontanare il pericolo della zona arancione. Negli ultimi sette giorni la Sicilia ha visto calare i contagi del 17%. La frenata è arrivata anche sul fronte ospedaliero. Trend in lievissimo calo per quanto riguarda i ricoveri in rianimazione, meno 0,9% ed una crescita sempre più contenuta dei ricoveri in area medica, più 3,2% contro il più 11% dei sette giorni precedenti. La curva dei contagi cala in sette province su nove, restano con il segno più soltanto Messina, più 15% e Trapani, più 5%. Tutti segnali confortanti, anche se i numeri sono ancora alti e le cinque province italiane con l'incidenza più alta sono proprio siciliane. Siracusa, Messina, Trapani, Ragusa e Catania con Caltanissetta in settima posizione. Il monitoraggio di domani però non porterà novità per la Sicilia che da lunedì prossimo potrebbe non essere più l'unica regione italiana in zona gialla.